In Sicilia negli ultimi 5 anni gli ambulanti sono diminuiti di 2.632 unità. Al 31 dicembre 2020 risultano 18.666 aziende a fronte delle 21.298 nel 2016, una flessione del 12,3, quasi il doppio della media registratasi a livello nazionale. Lo studio sulla base dei dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico è stato elaborato da Confimprese Sicilia durante la prima assemblea annuale degli ambulanti siciliani. La perdita di sole 192 aziende nel 2020, dice Giovanni Felice, coordinatore regionale di Confimprese Sicilia, conferma la nostra teoria secondo la quale la tenuta del numero di attività è determinata dal rinnovo di tutte le autorizzazioni fissate originariamente fino al 31 dicembre 2020. I dati provinciali inoltre fanno emergere alcune differenze tra territori. Nei 5 anni, dal 2016 al 2020, solo due province sono in crescita. Trapani registra più 127 aziende di ambulanti ed Enna più 20. Tutte le altre province siciliane portano in dote il segno negativo. dal meno 35 di Agrigento al 1985 di Palermo. Anche la provincia di Caltanissetta fa registrare un sensibile caso di attività.